Vai, 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 vai. Ancora, no, eh? Ancora, no, eh, vai, 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 vai. Vai, 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 vai è chiuso ancora ancora togli 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 è tolto ok non 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 no no campiani credo fuori ero fuori metti in centro tu ti costi? no ok vien 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 Ah, e l'evo, pian piano, si è stato corto, non è esquivo. Non so fogamento. A pian piano, vedo che, giuro. Ok. Certo, certo, certo. Certo, certo. Certo, c'è malta, eh. No, no. 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 Ah! E se ne faccia mai? Fattori! Fattori, fattori di mezza. Fattori, fattori di mezza. no